pesaro celebra la giornata contro la violenza sulle donne a fano l'erosione mette a repentaglio la passeggiata dell'isipo troppi incidenti su quelli strade segnalazioni da tavuglia e valle foglia cantiano donati quintali di fieno agli allevamenti alluvionati una magica nevicata inaugura il natale di monbaroccio buona serata ben ritrovati su Rossini tv oggi è venerdì 25 novembre una data che contrassegna la giornata internazionale contro la violenza sulle donne in tutto il territorio marchigiano sono tantissime le manifestazioni che tingono di rosso questa giornata e nel nostro primo servizio andiamo a vedere in che modo la città di pesaro ha dato enfasi al significato di questa ricorrenza la delicatezza e l'eleganza delle scarpette rosse in ceramica anche per questo 25 novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne colorano le sale dei musei civici di palazzo mosca un'iniziativa promossa cinque anni fa dall'associazione italiana città della ceramica alla quale pesaro partecipa in collaborazione con lo studio d'arte donzelli e ceramiche bucci che assieme ai loro corsisti hanno dato vita ad un dialogo tra le opere d'arte storiche dei musei civici e i simboli in ceramica a simboleggiare la violenza sulle donne le cronache di questi ultimi giorni ci ricordano che la battaglia non è finita ma che anzi tutte le forze della società civile si devono smobilitare in quest'azione collettiva e iniziative come questa di oggi all'interno dei musei che coniugano il lato della bellezza della cura con una lotta collettiva penso rappresentino il connubio perfetto di un'azione collettiva a cui mi stavo riferendo il caso di anastasi è solo l'ultimo femminicidio in ordine di tempo avvenuto nel nostro territorio a testimoniare quanto ancora la società debba essere sensibilizzata su questa delicata tematica a farsi forza però sono le donne che di anno in anno trovano sempre più coraggio nell'affidarsi e confidarsi con le istituzioni nel 2021 sono state circa 150 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza nel 2022 fino al mese di ottobre sono già 167 questo è già un dato che ci porta all'attenzione quanto il centro antiviolenza sia conosciuto all'interno del nostro territorio e quanto in realtà ancora dobbiamo fare per potenziare alcune azioni specialmente quelle che riguardano l'autonomia della donna dopo la presa in gestione del proprio carico e della propria denuncia un altro dato che molto spesso viene soffocato dei numeri dei femminicidi che però mi sembra un dato importante a livello nazionale sono 88 casi di violenza al giorno in tutta italia significa che mentre stiamo parlando già una donna sta denunciando un caso di violenza domestica o di violenza contro se stessa che non porta necessariamente al femminicidio ma che un campanello d'allarme che non va sottovalutato un impegno a 360 gradi coinvolge anche il comune di pesaro per contrastare ogni tipo e forma di violenza si mobilita attraverso le istituzioni il centro antiviolenza che prevede un accordo di rete ancora più potenziato anche nell'ottica del codice rosso che è l'estrema razio di fronte a un caso di violenza ma lo fa con un'azione che continua a 365 giorni siamo presenti nelle scuole con momenti di formazione e sensibilizzazione siamo presenti come terzo settore come volontariato che attraverso iniziative come quella di oggi anche se vogliamo lontane dal carattere specifico dell'iniziativa quindi il mondo della ceramica con la violenza sulle donne però di fronte a iniziative importanti e problemi della società si ritrovano quindi diciamo che il comune di pesaro fa quello che sa fare meglio fare rete e contrastare la violenza attraverso un lavoro collettivo chiaramente è un segnale che arriverà ai visitatori di musei arriverà a chi insomma verrà a visitare le opere nel percorso ordinario e si inserisce tra le numerose iniziative compreso anche un consiglio comunale molto tematico che si tengono appeso in questo periodo così diciamo drammatico anche per i fatti di cronaca recenti da Fano e non solo e che ovviamente vuole essere un segnale come a tutta Italia e alla mobilitazione con le emissioni della ceramica. Scarpette rosse in ceramica è il titolo della mostra che sarà visitabile dal 25 novembre all'11 dicembre da martedì a giovedì dalle 10 alle 13 e da venerdì a domenica sempre dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 e 30 alle 18 e 30. I manifesti che vi mostriamo sono quelli che saranno affissi sulle case della frazione pesarese di case bruciate interessate dall'evacuazione prevista domenica 4 dicembre mattinata in cui sarà disinnescata la bomba d'aereo della seconda guerra mondiale trovata lo scorso 15 ottobre in strada a Montefeltro durante lavori di scavo. Emergono infatti maggiori dettagli su un piano d'evacuazione che porterà fuori di casa quasi mille persone. L'operazione d'evacuazione sarà seguita dal comune dai volontari di protezione civile e forze di polizia e avrà inizio alle 6 di mattina per essere completata entro le 8. Fra le 8 e le 15 l'area interessata dovrà rimanere sgombra di persone ad eccezione degli artificieri che disinnescheranno l'ordigno e lo trasporteranno in un'area isolata del comune di Tavuglia per farlo brillare. Sarà predisposto un piano di accoglienza alla vitrifriguarena per coloro che non troveranno sistemazioni alternative alla propria abitazione. Sarà anche sospesa la circolazione in strada Montefeltro e nell'autostrada A14 fra i caselli di Fano e Gabice. Nei giorni scorsi maltempo e mareggiate hanno lasciato segni tangibili sulle nostre coste in particolare nella zona di Sassonia di Fano dove il ritardo dei lavori sulle scogliere rischia di presentare un conto molto salato. Rossini TV accende le sue telecamere questa mattina venerdì 25 novembre a Fano sul lungomare di Sassonia. Ci troviamo con alle nostre spalle la passeggiata dell'Elsippo e alla nostra destra i bagni Carlo. Qui si vedono i segni tangibili dell'erosione del mare, delle recenti mareggiate che hanno davvero divorato gran parte del litorale. Vedete alle mie spalle la prima curva della scogliera, la ghiaia, la spiaggia qui del litorale arrivava fino a quel punto e ora si è ridotta davvero a pochissimi metri. Una situazione che viene denunciata a chiare lettere oggi dal gruppo della Lega di Fano. Questa è una problematica che viene da lontano e viene per quello che è stato fatto in maniera direi pressa pochistica e a volte solo dedicata ai proclami perché si è partiti con dei lavori che hanno riguardato una parte della spiaggia, hanno iniziato a proteggere una parte della spiaggia ma hanno poi aggravato il resto della situazione. Mancava piano piano, mancava solo un ultimo tratto, si era detto che si sarebbe stato fatto quest'estate, anzi si doveva fare l'anno scorso, si era detto con tanto di video che si sarebbe stato dall'assessore fatto quest'estate, siamo oggi il 25 e domani il 26 di novembre arriverà un'altra perturbazione quindi ci troveremo a parlare un'altra volta di spiaggia ancora mangiata e di danni e non è stato fatto niente. Matteo Renzi è di fatto la testimonianza diretta di quello che mese dopo mese è accaduto qua anche sul numero di file di ombrelloni che si riuscivano a mettere, quelle che si è cominciato a contrarre e quelle che ormai sono quasi da contare neanche sulla ditta di una mano. Siamo passati da circa 11.000 metri quadri di spiaggia a sotto 3.000 metri senza contare poi tutte le zone non utilizzabili e non abbiamo più di 15-20 metri dalle strutture. Ogni mareggiata al mare continua a farci danni, quindi arriva nelle piscine, nelle strutture, nei capanni, nei campi da beach volley, nei sintetici, quindi gli investimenti fatti negli anni, ogni mareggiata ce li distrugge per cui non sappiamo più come fare. Purtroppo questa è una cosa che va avanti da ormai quattro stagioni ma da due in maniera quasi eccatante, noi non sappiamo più a chi appellarci perché sappiamo da anni che comunque è tutto pronto, i soldi ci sono, i progetti sono pronti, li abbiamo anche visionati, quindi sappiamo che è tutto lì ma non sappiamo perché c'è questo tipo di stallo, siamo disperati. Non solo la denuncia, anche una interrogazione urgente in Consiglio Comunale. Vogliamo sapere a questo punto delle risposte, tra l'altro questa è una questione che non sta riguardando solo uno stabilimento balneare per quanto grave perché comunque impiega oltre a chi ha la proprietà ma anche impiega 20 famiglie per cui c'è anche una situazione lavorativa. Sta riguardando la città perché abbiamo un rischio concreto che la passeggiata dell'Elisippo vada giù con infiltrazioni che già si ripercuotono anche sugli stabilimenti produttivi che sono alle spalle della passeggiata. E come detto non c'è solo litorale, l'erosione mette in serio pericolo anche la passeggiata dell'Elisippo, un patrimonio da salvaguardare per la quale si interessa anche la Regione Marche nella persona di Luca Serfilippi. Noi come Regione Marche abbiamo investito e investiremo più di 5 milioni di euro sul litorale fanese, però in alcune occasioni, ad esempio all'apertura dei bandi, il Comune di Fano o ha sbagliato la PEC o l'ha inviata troppo tardi, quindi di fatto ha rischiato anche di perdere importanti finanziamenti, c'è la disponibilità a collaborare, sappiamo che ad esempio su altri punti del lungomare come a Ponte Sasso non c'è nemmeno un progetto quindi non c'è stato inviato nulla, chiediamo all'amministrazione comunale anche con questa interrogazione una programmazione per tutto il lungomare fanese, quindi quello che serve si faccia. Qui in questo caso a Sassonia invece c'erano sia i soldi, tutto quanto, è dal 2015 che stanno facendo i lavori su queste scogliere e quando tu non completi un lavoro si creano il danno, si crea il danno che stiamo vedendo alle nostre spalle, quindi chiediamo un intervento immediato, urgente, per sapere quando iniziano i lavori e quando termineranno, perché qui a rischio ci sono 50 posti di lavoro, è un danno di immagine importante per tutta la città di Fano. E ora passiamo allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, ricordo sempre il numero di WhatsApp 370-366-7210 dove potete mandare video, foto oppure messaggi di testo. In questo caso parliamo dei troppi incidenti che si stanno registrando in una strada di Tavuglia dove ad essere in pericolo sono anche i residenti di un'abitazione che ci hanno chiamato, vediamo. Questo, questo e questo. Sono solo gli ultimi tre incidenti che si sono verificati nell'ultimo anno nello stesso tratto, quello di strada per Montecchio davanti al civico 21. L'abitazione in cui vive dal 2014 la signora Barbara che da otto anni vede ripetutamente davanti ai suoi occhi innumerevoli episodi che mettono a rischio la sua incolumità e quella della sua famiglia. Purtroppo io non posso neanche più stare a fare un accamminato, arrivare in macchina davanti a casa mia perché mi ritrovo sempre macchine che mi vengono adosso come l'ultima qui che è partito il muretto dalla velocità, non lo so dovuto a che cosa, però mi hanno buttato giù per l'ennesima volta alla recinzione e per poco non arrivano pezzi addosso a mio marito. E la seconda volta, il primo bonus me lo sono giocato io, il secondo mio marito, il terzo non so come andrà. Il comune di residenza della donna è quello di Tavuglia, ma il tratto di strada, teatro di numerosi incidenti in questi anni è di competenza della provincia. Ho segnalato questa cosa alla provincia, niente, è stato fatto niente, segnalato in comune, niente ancora, io non so più come fare, non sono più tranquilla dentro casa mia e ho paura. Paure e scontri generati dall'alta velocità con la quale i conducenti guidano i loro mezzi e la reasfaltatura della strada, la costruzione di una rotatoria o il posizionamento di un autovelox potrebbero smorzare il pericolo. L'incrocio che secondo me da ignorante non è più a norma, perché comunque sia fanno difficoltà a vedere, però mi è stato risposto che la rotatoria per il momento me la posso scordare e quindi non so se aspettano qualche morto o qualche e per poi convincersi che è pericoloso. Anche l'autovelox ma fisso, non quei box che poi non li mettono mai. L'asfalto, io sono dal 2014 che sono qui, non è mai stato fatto, mai, appena le righe perché mi sono arrabbiata che qui abbiamo nebbia, quindi quelle le hanno fatte, però c'è l'asfalto finito. Io non riesco neanche a uscire di casa perché purtroppo non vedo, mi è stato risposto che se era molto pericoloso loro me lo chiudevano e io sono dovuta purtroppo stare zitta perché se veramente me lo chiudono io da dove esco di casa, ho detto di mettermi uno specchio, me lo dovevo comprare da sola, forse loro lo venivano a montare. Io adesso, anche a stare qui adesso, io ho paura e non è possibile aver paura di stare io, una mamma che non riesce a camminare bene, la faccio scendere sempre davanti al cancellino, non posso più farlo perché se mi va fuori strada una macchina come l'ultima che mi è passata a due millimetri dal cancellino me l'amazza. E diverse segnalazioni di strade pericolose ci arrivano anche dal comune di Vallefoglia, le immagini che vedete ce le ha inviate Antonio, nostro telespettatore, per segnalare un incrocio molto pericoloso nella frazione di Capponello. Incrocio che secondo i residenti è privo di uno specchio che aiuti a scorgere le macchine in arrivo, una segnalazione inoltrata anche allo stesso comune di Vallefoglia che seguiremo per capire se avrà o meno un esito positivo. Ed ora invece vi segnaliamo che Adriabus ha comunicato uno sciopero del servizio di autobus per venerdì 2 dicembre dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, fasce orarie in cui i servizi non saranno garantiti e anche l'ufficio informazioni e le biglietterie potrebbero sospendere il servizio. Le immagini che state vedendo arrivano da Cantiano e in particolare dall'azienda di allevamenti bovini, calandrini, bazzucchi della frazione di Ponte Riccioli. Qui Consorzi Agrari d'Italia ha raccolto l'appello di Coldiretti rispetto alle esigenze di alcune aziende zootecniche i cui fienili erano stati aggrediti dalla furia dell'alluvione del 15 settembre. Aziende che avevano perduto buona parte dei mangimi indispensabili per nutrire gli animali allevati nel corso dell'inverno. Si tratta di un bel gesto di solidarietà che ha portato alla consegna di 150 quintali di fieno che saranno consegnati anche ad un'azienda di Fabriano che ha vissuto le stesse criticità. E anche oggi continuiamo ad informarvi sulle tante proposte di intrattenimento natalizio offerte sul nostro territorio. Le nostre telecamere si accenderanno infatti domani all'inaugurazione di E' Natale a Monbaroccio quando alle 17 ci sarà una magica nevicata ad avvolgere il borgo. Si tratta di una delle tante iniziative del Natale monbaroccese che andiamo a illustrarvi in questo servizio. Sono 22 anni che questo evento ha vita e la caratteristica e la peculiarità del Natale a Monbaroccio sono proprio le ambientazioni che ci contraddistingue rispetto a tutti gli altri mercatini. Sono ambientazioni create all'interno di spazi vivi sotto case caratteristiche del borgo e abbiamo diverse di ambientazioni. Il nostro cavallo di battaglia è il paesaggio invernale situato in una vecchia filanda. qui dove ci troviamo adesso è la casa di Babbo Natale che non può mancare per i bimbi ma anche per i grandi. Il borgo si veste anche di un'altra ambientazione ed è quella del villaggio montano e i pinguini ci aspettano perché è una nuova ambientazione animata da stambecchi ma soprattutto pinguini e orsi polari. Abbiamo un vasto programma di eventi all'interno dell'edizione di Natale a Monbaroccio quest'anno confermata la magica nevicata che avrà una veste un po' diversa, sarà uno spettacolo innovativo quest'anno e poi tanti appuntamenti per i bambini, spettacoli all'interno dei teatro e abbiamo alcune location nuove quest'anno come il giardino degli ignomi, il mercatino di Natale storico e Magiche Atmosfere che è un'ambientazione che già gli anni scorsi avevamo proposto ma quest'anno ha cambiato location e avrà una veste tutta nuova. Finalmente sì, lo faremo fuori dalle restrizioni Covid che purtroppo in questi ultimi anni ci hanno condizionato, lo faremo a pannaggio dei bambini, li aspettiamo numerosi con le loro famiglie per visitare il nostro meraviglioso borgo e per osservare tutte quelle che saranno le novità del Natale di quest'anno, Natale 2022 per il nostro nuovo mercatino che partirà dal prossimo weekend e che sarà pronto a ospitare tantissimi turisti locali e anche fuori regione sicuramente, li aspettiamo numerosi. Io mi permetto di fare ringraziamenti doverosi a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo nuovo mercatino a fronte di una ripartenza che comincia fortunatamente a dare i suoi frutti e quindi tutti i volontari della Proloco, della Presidente, Giugiu, tutti coloro che hanno collaborato, tutti coloro che anche non sono iscritti alla Proloco e che sono prodigati, tutti gli operatori economici che quest'anno torneranno sul territorio augurando loro di poter dare anche riscontro economico con la vendita di quelli che sono veramente le peculiarità di un territorio che ha tanto da offrire non solo a chi ci vive ma anche a chi ci viene a visitare. Quindi veniteci a trovare, bambini in particolar modo perché qui Babbo Natale sta arrivando e quindi vi aspetta a braccia aperte. Il prossimo weekend, il primo weekend di novembre, l'8 dicembre e il weekend successivo del 10 e 11 dicembre. Domani alle ore 17 nella chiesa del Gonfalone di Fano verrà presentato 6, un progetto letterario di medicina narrativa creato dal collettivo Scrivi per Bene, nato dalla collaborazione fra 66 scrittori e 132 pazienti oncologici. La dottoressa Rita Chiari, responsabile del reparto di oncologia degli ospedali di Pesaro e Fano, ha iniziato a chiedere ai suoi pazienti di farsi donatori di 6 parole, consegnate poi a degli scrittori che hanno avuto il compito di imbastire trame, cucire racconti e scrivere storie, a partire da queste parole guida. 6 è il numero ricorrente di ogni pagina, come 6 sono i curatori del libro, Alessandra Benni, Maura Bussotti, Michele Cardinali, Arianna Lorenzotto, Maria Laura Rosati, Fabiana Taddei. Alla presentazione di domani ci sarà anche l'ex calciatore Massimo Ambrosini, testimonial del libro, i cui proventi della vendita saranno devoluti ai reparti di oncologia Marche Nord. Il centro di arte contemporanea, il conventino di Monte Cicardo, riapre al pubblico con la mostra collettiva a punti per una rinascita, che inaugura domani alle ore 16 e si potrà visitare fino al 7 gennaio. Organizzata da Fondazione Pescheria, l'esposizione a cura di Eleonora Rubecchi Mensitieri intende rimettere in luce la vocazione artistica del conventino come luogo in cui è possibile percepire e vivere il dialogo tra le atmosfere antiche delle mura e del chiostro e gli impulsi e le nuove soluzioni espressive dell'arte contemporanea. E al Teatro della Fortuna di Fano arriva il Macbeth di Giuseppe Verdi, nuova produzione realizzata dalla Fondazione Rete Lirica delle Marche. Lo spettacolo andrà in scena domani, sabato 26 novembre, alle ore 20.30. Sarà interpretato dal baritono Jezim Misteka, mentre Lady Macbeth sarà il soprano Lydia Friedman, astro nascente dei palcoscenici italiani. Ieri sera il filosofo Diego Fusaro è stato ospite nella chiesa dell'Annunziata per il ciclo di incontri promosso dalla neonata società pesarese Storia e Nazione. Approfondiamo questo approfondimento storico e sociologico dal titolo Italia, identità di una nazione, nelle interviste realizzate da Marco Cadedu. Massimo Baranciani, il presidente di Storia e Nazione, ha invitato oggi qui alla chiesa dell'Annunziata, giovedì 24 novembre, una punta di diamante del pensiero filosofico nazionale, il professor Diego Fusaro. Dottor Baranciani, perché questa scelta? Perché il tema che verrà trattato questa sera dal professor Fusaro, che è ascrivibile appunto all'identità di una nazione, si sposa, si coniuga molto bene con la filosofia della nostra stessa associazione che è tesa a promuovere le nostre tradizioni culturali, il nostro patrimonio, ma in senso evolutivo, dinamico e non statico. Quindi riteniamo che sia la cornice migliore dove inserire le nostre tematiche. Abbiamo iniziato l'altra volta con la vita di San Francesco, abbiamo avuto sicuramente un qualcosa che si ha lasciato anche stupiti, ma contenti, molto felici, perché abbiamo avuto veramente un gran successo. Stasera avevo detto che c'era una sorpresa, siamo riusciti ad avere con noi il filosofo Diego Fusaro e quindi ci aspettiamo sicuramente anche stasera un bel risultato e ne siamo contenti. Si prova a ragionare sull'essenza dell'identità, su cosa significhi la parola identità oggi molto vituperata e tuttavia una parola fondamentale della filosofia e anche una parola fondamentale per comprendere la storia stessa del nostro paese, la travagliata storia dell'Italia e della sua identità. Quindi il concetto di identità deve essere rimesso in auge dopo tanta critica e tanta spietata messa in discussione che ha avuto negli ultimi tempi. Il mio legame con l'associazione è di tipo anzitutto di amicizia, di condivisione della passione per la cultura. La cultura è intesa come non semplice conservazione, ma come innovazione, un tentativo di innovare conservando e di conservare innovando. Questo mi lega all'associazione che sta svolgendo un lavoro davvero eccezionale sul territorio e che sta provando a resistere, come è giusto che sia, alla barbarie nichilista che ovunque avanza distruggendo cultura e identità. Noi abbiamo il dovere di resistere riaffermando la cultura e l'identità. E in chiusura del nostro telegiornale andiamo a parlare della stagione invernale dell'orchestra Sinfonica Rossini che riparte con il progetto Sinfonica portato avanti da oltre dieci anni in partnership con Xanitalia, concerti che partiranno il primo dicembre con Pesaro Music Award al teatro sperimentale. La stagione concertistica dell'orchestra Sinfonica Rossini per la città di Pesaro. Quest'anno il titolo è sempre Sinfonica, due sottotitoli, la musica attorno e Xanitalia per il territorio. La musica attorno è che guardando questa stagione che nasce da una serie di considerazioni fatte negli anni ci rendiamo conto che la musica davvero ci accompagna in tante occasioni. Pensiamo ai primi tre appuntamenti, Pesaro Music Awards, un momento per celebrare degli importanti artisti, il concerto di Capodanno per festeggiare insieme alla cittadinanza l'anno nuovo e il terzo appuntamento è il concerto nella giornata della memoria, quindi la musica ci permette anche di riflettere. Quindi questo è lo slogan che utilizzeremo nel 2023 per tutte le nostre attività di produzione. L'altro slogan è Xanitalia per il territorio. Abbiamo oltrepassato il decennale di sponsorizzazione con Franco Signoretti, l'anno scorso appunto avevamo coniato questo slogan, abbiamo pensato di ripeterlo perché proprio la volontà di questa azienda nel sostenere la nostra orchestra è sostenere il territorio che significa un'orchestra, quindi i professori, il lavoro, le famiglie eccetera eccetera, le scuole perché facciamo anche le mattinè e tutto quello che riguarda un po' la restituzione come si suol dire al territorio di questa iniziativa. La stagione si può definire un caleidoscopio nella cui radice c'è la parola bello perché ci sono tanti ingredienti, tutti molto belli. Non manca l'opera lirica e non manca la musica sinfonica che è il nostro carattere prettamente orchestrale e poi grandi voci e poi un musical, una giornata dedicata alla memoria il 27 gennaio, il tradizionale concerto di Capodanno, tanti direttori sia nostri interni, il nostro direttore artistico il maestro Daniele Agima, il direttore per la formazione Maurizio Borgogelli, il direttore per l'innovazione Roberto Molinelli e poi alcuni artisti che abbiamo avuto già occasione di apprezzare in occasione del Bel Canto Ritrovato, il festival nazionale che ha avuto sede a Pesaro e nelle Marche lo scorso agosto, quindi io credo che sia una stagione da non perdere. E siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, ma restate sintonizzati sul canale 80, continuate a guardarci perché tra pochissimo inizia questo racconto dello showroom di arte del riposo, un racconto con tutte le novità che ha questa azienda pesarese che produce materassi proprio nel nostro territorio. Invece dopo la seconda replica del nostro telegiornale e quindi alle 21.20 circa, trasmetteremo la serata di grande ciclismo organizzata da Fisioradi Medical Center e da tanti altri partner che sono grandi appassionati chiaramente di ciclismo, non perdetevela alle 21.20. E poi domani mattina, sabato, ci sarà con voi Antonio Astuti in diretta alle 7.20 con la nostra seguitissima rassegna stampa. Mentre il sempre domani alle ore 13.30 e poi la potete vedere anche in replica domenica lunedì e martedì, comunque domani alle 13.30 ci sarà una nuova puntata di Guipesaro TV. Gli ospiti di questa puntata sono Camilla Murgia che è Assessore alla Gentilezza e alla Crescita, Luca Pandolfi Assessore alla Solidarietà. Il telegiornale torna con voi lunedì sempre alle 19.40. Grazie per essere stati con noi, adesso c'è il meteo.